Giovanni Totti, si presenta Marco Bucci e ieri Crivello l'ha definito il candidato di Salvini. Francamente Marco Bucci è un manager che ha vissuto molto in America, che ha portato a Genova una multinazionale americana con più di 250 posti di lavoro in questa città, che per quanto mi risulta sapere, lo conosco piuttosto bene, visto che l'ho scelto come presidente di Liguria Digitale, non ha una tessera in tasca di partito, ha sempre fatto altro e ha deciso di partecipare alla nostra avventura politica di centrodestra, prima come amministratore di Liguria Digitale e ora come candidato sindaco per amore della sua città. Io credo che Bucci sia il candidato dei genovesi e non il candidato di nessuno di noi, piuttosto Crivello mi sembra il candidato di Marco Doria, proporre dopo cinque anni di esperienza fallimentare un candidato che in Giunta Doria ha votato ogni delibera della Giunta Doria, quelle che hanno tollerato e autorizzato il mercatino di Corso Quadrio, l'abusivismo commerciale, la legge antimovida, gli aumenti della Tari, la fusione Irenamiu che non porta nessun beneficio ai lavoratori di quelle aziende. Io credo che sia lui che debba giustificare una campagna elettorale fatta di promesse non mantenuta ormai da un decennio. Bisogna sigillare i confini, bisogna verificare tutte le cittadinanze regalate, bisogna verificare tutte le presenze islamiche, chiudendole se necessario e occorre fermare gli sbarchi, salvare vite ma riportare tutti indietro dal primo all'ultimo, perché prevenire è meglio che curare. Genoa dopo decenni finalmente può cambiare, può tornare a essere la città, la capitale mondiale che era, sicurezza, lavoro, giovani, case popolari per gli italiani, sono felice perché finalmente i genovesi per la prima volta possono veramente cambiare e mandare a casa una sinistra che ha fatto solo disastro. Avete il doppio della responsabilità che hanno tutti gli altri elettori di Giunta Doria. In bocca al lupo e viva Genoa!